bene amici di solo dettagli e benvenuti in questo nuovo video oggi vorrei parlarvi del mio nuovo carrello per la lucidatura è un carrello in metallo come vedete è prodotto da un'azienda che si chiama il benessere dell'auto lo trovate sotto l'acronimo di ibda sui vari social una doverosa premessa non percepisco un euro da questa recensione la faccio semplicemente in maniera spontanea per certificare la bontà di questo prodotto che occhi che ho acquistato e che secondo me merita rispetto ad altri prodotti della concorrenza per le soluzioni che sono state adottate poi ve ne parlerò il benessere dell'auto fondamentalmente un detailer che sta crescendo molto in questo periodo che però ha esperienza anche nella lavorazione dei metalli e quindi ha pensato di realizzare non solo questo carrello ma vari attrezzi che diciamo riguardano il mondo del detailing e della lucidatura questo è un pezzo che secondo me ha una qualità altissima come potete vedere un carrello verniciato a polvere nero vi dirò adesso un pochino di caratteristiche o il metro quindi vi do le misure le misure delle delle vasche sono circa 35 cm per 60 per un'altezza da terra quindi ruote comprese di 85 cm come potete vedere abbiamo tre vasche le vasche hanno comunque un'altezza considerevole siamo a 11 centimetri e mezzo quasi 12 e questo consente veramente di ospitare tante tante attrezzature la caratteristica che mi ha colpito quando l'ho visto e poi vi farete una risata con me è lo spessore dei materiali adottati non ho usato il calibro ma occhio mi sembra una lamiera da un millimetro e mezzo che esagerata infatti quando 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 l'ho visto la prima volta ho detto abbassa questi spessori perché ne viene fuori uno strumento anche pesantino è necessario davvero utilizzare uno spessore tale dato che fondamentalmente qui dentro ci andranno bottiglie lucidatrici roba decisamente leggera la mia risposta è stata proprio che la scelta aziendale è stata proprio di creare qualcosa di robusto che non ci sia nulla del genere in giro e posso dire che assolutamente che hanno hanno centrato il punto infatti vi posso assicurare che ci può salire una persona senza nessuna deformazione che dire degli accessori che trovate in dotazione ovviamente vi potete mettere d'accordo con loro su quello che vi necessita ma oltre a una maniglia frontale che serve fondamentalmente per spostarla e eventualmente ospitare degli spruzzini abbiamo un diciamo dei decori tutto attorno alla vasca superiore che costituiscono non sono altro che dei porta spruzzini sia nel lato lungo che nel lato corto ci sono anche dei fori per ospitare dei pennelli personalmente dato che lo utilizzo sulla solo per la lucidatura il porta pennelli non lo utilizzo perché poche volte si rende necessario l'uso dei pennelli un'altra soluzione interessante è questa nella vasca superiore sono stati fatti degli intagli e questo consente di appoggiare delle lucidatrici durante la lavorazione tre intagli tre lucidatrici contemporaneamente che non occuperanno spazio dentro il carrello perché come vedete il corpo va posizionato fuori quindi all'interno avete la possibilità di mettere le vostre attrezzature da lucidatura quali potrebbero essere ovviamente tamponi panni bottiglie di polish è un altro aspetto interessante ho trovato il fatto che c'è un bello spazio qui questo vi consente di ospitare tranquillamente anche le bottiglie da un litro come vedete io utilizzo le bottiglie della menzerna che sono molto alte e sono e sono molto ci vanno molto bene insomma anche le ruote sono state scelte di generoso diametro con freno quindi se abbiamo terreno scosceso possiamo tranquillamente utilizzarlo per evitare che il carrello si muova quindi in definitiva ragazzi una un prodotto di altissima qualità nonostante io abbia altri carrelli per le lavorazioni del detailing ho pensato di utilizzare questo proprio per per i miei lavori principali perché effettivamente le vasche alte e la robustezza consentono di portare davvero tanta tanta roba e se qualcuno ci aiuta questo può essere messo anche in macchina io ho la possibilità di una macchina che mi permette di metterlo in piedi e quindi potrei portarlo fisicamente con tutta l'attrezzatura all'interno quindi la mia recensione finisce qui voto estremamente positivo non mi chiedete quanto costa perché il prezzo può variare in base agli accessori che decidete di mettere contattata il benessere dell'auto principalmente su instagram ma presto aprirà anche la sua pagina facebook in modo tale che poi vi possiate mettere d'accordo sul prezzo quello quello che tutte le altre cose insomma necessarie per questo video è tutto ragazzi spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete mi piace ovviamente se vi posso aiutare se vi posso rispondere con altri aspetti tecnici o basati sull'esperienza che ho avuto su questo carrello non esitate a domandarmelo alla mail del sito o qui sotto nei commenti del video arrivederci alla prossima puntata